Musica Bentrovati tra i spettatori di TV6 e l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di giovedì 1 dicembre. Dall'osservazione delle immagini satellitari possiamo notare l'Italia pressoché sgombra da nubi. Questo grazie alla presenza di un anticiclone che proteggerà gran parte dell'Italia e del Mediterraneo. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio regionale. Tuttavia nuvolosità alta e stratificata interesserà in particolar modo le zone costiere, mentre nelle zone interne avremo tempo più soleggiato ma con possibilità di addensamenti nuvolosi. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente con il tempo che risulterà sereno su tutto il territorio regionale. Tuttavia la ventilazione risulterà proveniente dai quadranti settentrionali e i mari saranno generalmente mossi o molto mossi. Nel corso della serata le condizioni meteorologiche non vedranno grosse variazioni, con i cieli che si presenteranno ancora sereni su gran parte del territorio regionale. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento. Grazie.